Siamo con il Presidente Consorzio Tutela Vini e Soave, insomma com'è andato questo Vinitaly 2012? Un po' particolare perché si è iniziati la domenica quest'anno. Sì, il format è cambiato ma in sostanza diciamo che è stato un Vinitaly positivo. Intelligentemente gli operatori hanno cambiato giorno di posizionare la loro presenza nei vari stand. Comunque diciamo che è stato un buon Vinitaly, quindi l'interesse c'è, diciamo che la massa critica ha lo stesso, è importante. E poi è sempre importante esserci a questo Vinitaly perché dà sempre messaggi nuovi, nuovi input per mercati anche emergenti. Ma anche un buon segno per dare sempre più spinta e più voglia di crescere anche delle aziende. Ecco, con questa nuova formula lei ha visto un cambiamento dei frequentatori, del Vinitaly, dello stand, cioè la qualità di quelli che si avvicinano al vino. Chi è? Beh, per quanto riguarda gli operatori esteri è cambiato poco. Perché anziché venire tra giovedì e venerdì si sono presentati lunedì e martedì. Direi che è cambiato in meglio quello che è la presenza della ristorazione locale, quello sicuramente. Locale intendo del veronese o della provincia di Verona, perché hanno avuto più possibilità di essere presenti non solo per il lunedì ma anche il martedì. Quindi è anche il mercoledì come oggi. Quindi diciamo che sono i giorni normalmente di chiusura per la ristorazione lunedì, martedì o mercoledì. E quindi qua vediamo molte presenze della ristorazione della provincia di Verona. Ecco, un'ultima domanda. Per il Soave com'è andata e se dovesse dare un voto, diciamo così, numerico, che voto darebbe? Il Soave è vulcanico, ha creato vulcani ed è vulcanico lui. Quindi diciamo che il consorzio del Soave si è mosso, ma lo vede anche la gente stessa. Abbiamo avuto un momento di riposo, abbiamo fatto delle giornate intensissime con personaggi importantissimi dell'enologia mondiale e quindi penso che il risultato sia sempre positivo. Quando c'è frequenza vuol dire che c'è frequenza di persone, vuol dire che c'è anche interesse. Grazie mille.